Allora, buonasera a tutti. Cominciamo. Grazie di essere venuti anche a questo ultimissimo incontro. Ci fa tanto piacere, anche perché oggi speriamo di stare molto in silenzio noi e di lasciar parlare molto voi. Volevo solo dire che davvero è stato un grande piacere potervi incontrare. Speriamo che questa cosa in qualche misura possa esservi servita e oggi vedremo, verificheremo in che modo, in che misura questo è servito e come eventualmente potrà servire ancora negli anni futuri, come può essere corretto, migliorato, eccetera, eccetera. E niente, vedo che già state compilando il modulo, mi raccomando, voti, insomma. Cioè, non abbiamo usato nemmeno una giustificazione, quindi per favore tenetene conto. Insomma, a volte i compiti a casa sono stati pesanti, però abbiamo fatto del nostro meglio. No, davvero, grazie ancora a tutti per essere qui. Niente, volevo, ognuno di noi ora farà un piccolo salute e poi lasciamo la parola a voi. Grazie ancora. Sì, mi unisco naturalmente ai ringraziamenti, ai saluti. Alessandro diceva appunto, speriamo che sia servito, intanto possiamo dire che ha servito a noi, questo sicuramente. È servito come momento di verifica per il nostro lavoro, per il nostro lavoro di ricerca, che spesso, purtroppo, ha pochissime occasioni di confronto con ambiti diversi, e con, diciamo, anche con gli ambienti che dovrebbero essere poi quelli in cui, come dire, la produzione di conoscenza che noi cerchiamo di mettere in atto viene effettivamente fruita e trasmessa ulteriormente. Quindi, per noi questo è molto importante. Ed è stato importante anche per riflettere proprio sulle nostre modalità di comunicazione, che spesso sono un po' stereotipate, blindate, diciamo. Quello che dicevamo, che l'impressione che abbiamo avuto, sia preparandoci, sia facendo i nostri incontri, i seminari, è che c'era una reattività da parte dell'auditorio che è pressoché sconosciuta quando, per esempio, facciamo dei convegni, dove è tutto molto più codificato e anche più, come dire, c'è tutta un'etichetta che invece, per fortuna, qui non sentivamo e che anzi abbiamo appunto sentito che di avere proprio la responsabilità di quello che stavamo dicendo. E anche, forse, questo ha fatto in modo che dovessimo trasformare, cercare di adattare il nostro lavoro, la nostra ricerca e anche di avvicinarla un po' più a delle questioni sostanziali. L'altra impressione che abbiamo avuto è che tutti abbiamo avuto l'istinto di andare ad affrontare di petto delle questioni, quando invece magari a volte scrivendo o lavorando in altri contesti ci giriamo un po' più intorno. Invece qui abbiamo dovuto affrontare delle questioni nodali, vitali, sia dal punto di vista dei temi affrontati, sia dal punto di vista dell'interrogarci sulla vitalità e sulla comunicabilità della letteratura, di quello di cui ci occupiamo, cioè proprio sul senso di quello che facciamo. Quindi per noi l'importanza, come potete capire da questi pensieri che abbiamo condiviso e che quindi sono stati mossi da questi incontri, per noi la posta in palio è stata molto alta. Quindi grazie ancora e speriamo oggi di aggiungere ancora qualcosa a queste riflessioni. Vi ringrazio anch'io tantissimo per essere qui, soprattutto per essere qui anche oggi, anche se in meno, però è importante che ci siate. Le stesse cose che hanno detto Alessandra e Paolo, chiaramente le condivido pienamente, abbiamo discusso a lungo, ci siamo confrontati molto sia prima che dopo le lezioni che abbiamo tenuto qui. Ci sono servite molto, ci hanno fatto pensare e adesso però davvero per noi è importante sapere voi cosa ne pensate, anche le idee che vi sono venute, qual è la vostra esperienza all'interno della scuola e come potete pensare di riportare qualcosa di quello che noi abbiamo cercato di darvi all'interno dei vostri percorsi didattici. Chiaramente magari non si tratterà di trasfondere direttamente ciò che vi abbiamo detto lì, ma magari di avere uno stimolo, un'ispirazione, un'idea. Naturalmente noi anche rispetto a questo tenete conto che adesso qui finisce però siamo a disposizione se volete, se volete scriverci, insomma scambiare con noi delle idee, noi siamo assolutamente a vostra disposizione. Insomma questo percorso culmina qui però dura tutto l'anno per noi nel momento in cui prepariamo le lezioni e poi anche dopo. E è particolarmente importante che oggi voi ci diciate cosa pensate e ci diate dei suggerimenti e degli spunti perché vi ricordo come diceva ad alcuni vostri colleghi che questo è un progetto sperimentale. Questo tra l'altro è solo il secondo anno che abbiamo le frontiere della letteratura. I lincei hanno lavorato su moduli che trattavano appunto la matematica, le scienze e la lingua, ma la letteratura esiste da due anni, appunto il modulo relativo alla letteratura esiste solo nel polo di Pisa, alla scuola normale. Quindi insomma è importante che capiamo se questa cosa funziona e come può funzionare meglio. Quindi insomma niente, vi ringrazio di essere qui e del contributo che ci state dando. Grazie. È il primo anno di frequenza di questo corso, l'ho trovato molto interessante. Io mi occupo di italiano in un liceo classico, però al ginnasio. Quindi per esempio per quanto riguarda i Promessi Sposi appunto stiamo leggendo il test e ora volevo far leggere Storia della Colonna Infame. Ho consultato un po' il vostro sito e ho visto che c'è molto materiale sull'Orlando Furioso e altri poemi epici. Non so se sono stata io a non trovare materiale sulle illustrazioni dei Promessi Sposi e quindi volevo sapere sarà disponibile e appunto se quindi poteva essere in qualche modo reperito. E un'altra domanda è, ho visto una proposta su Bradamante e Melissa come tema da ampliare e penso di avere intuito che uno può sviluppare quel tema oppure può proporne altri, quindi anche su altri appunto romanzi come Promessi Sposi per esempio, oppure sempre sull'Orlando Furioso. Grazie. Sì, risponde. Chi risponde? Vabbè, intanto sui Promessi Sposi. No, in effetti le illustrazioni dei Promessi Sposi non fanno parte del lavoro specifico che facciamo al CTL al laboratorio della scuola normale diretto dalla professoressa Bolsoni. Lì ci occupiamo esclusivamente dell'Orlando Furioso e di una serie di poemi cavallereschi diciamo che fanno parte di una galassia di testi affini all'Orlando Furioso. Per cui il lavoro di ricerca specifico non prevede i Promessi Sposi e quindi per questo non li hai trovati sul sito perché non ci sono. Si possono trovare, a parte l'edizione di cui parlavo anche l'altra volta ovviamente, ma anche su Wikipedia ci sono tutte le immagini, c'è il testo integrale con tutte le immagini e anche con la loro collocazione originale. Questo per dire, insomma, può essere uno strumento. Per quanto riguarda i percorsi di CTL scuole, naturalmente relativamente all'Orlando Furioso possono essere ampliati, proposti altri percorsi, insomma è apertissimo da quel punto di vista. non avevamo pensato originariamente però a un'estensione che andasse al di là del corpus, anche perché il senso originale della proposta era quello di poter utilizzare i nostri materiali, cioè quelli che abbiamo studiato e che abbiamo messo a disposizione. Chissà che in una proiezione futura si possa anche pensare a un allargamento di questo tipo, però per il momento la nostra idea è quella di restare all'interno di quel corpus, naturalmente con allargamenti ed utilizzo di altre immagini che magari non sono sul sito, ma che riguardino però sempre quel tipo di testi. Se posso prendere giusto una cosa, è per capire il senso di quello che diceva prima Paolo, al laboratorio che noi abbiamo adesso, stiamo lavorando ad un progetto europeo che prende praticamente gran parte o quasi tutto il nostro lavoro, e questo progetto è sugli argomenti che vi diceva Paolo. Questo non significa che poi singolarmente ogni ricercatore e ricercatrice sviluppi i suoi percorsi e le sue attività, però soprattutto per quello che riguarda i prodotti multimediali. Lo sviluppo di un prodotto multimediale, come può essere l'archivio digitale nostro, richiede un lavoro di gruppo e un impiego di risorse umane grosso, per cui può essere fatto solo all'interno di un grande progetto con grandi finanziamenti che sviluppa un'equipe tra informatici e umanisti, insomma, discreta. Per quel motivo si trovano soltanto prodotti di quel tipo. Ecco, poi le ricerche di ognuno vertono magari anche su altro, e rispetto a quello che dicevi prima, ancora di più, ecco, sicuramente una cosa che avevo già pensato, avevamo già pensato prima ancora che finissero le lezioni, è che forse conveniva pensare di ampliare i città alle scuole, che è la parte invece dedicata ai percorsi prodotti all'interno delle scuole, però tenuto, insomma, gestito da noi, non solo all'Orlando Furioso, ma anche ad altri percorsi didattici, insomma. Io volevo proporre anche una riflessione sia sul corso, in generale voglio parlarne anche con i colleghi, penso che dal primo pomeriggio è stato fatto un po', come dire, un quadro generale che poi si è riverberato durante gli altri incontri, ovvero la riflessione sulla memoria. Io insegno in una scuola professionale assai difficile, un po' di frontiera, come si suole dire, per cui è all'ordine del giorno la problematica di come adattare i contenuti, i livelli dei contenuti, alla comprensione e alla memoria anche dei nostri studenti. E penso che sotto questo aspetto è stata un'esperienza molto positiva, perché le lezioni, a cominciare dalla prima, che secondo me ha fatto un po' uno sguardo generale e ha introdotto un po' questa problematica sulla memoria, e le lezioni successive hanno poi proposto con la didattica, anche per immagini, mi riferisco soprattutto alle prime due, e poi con una proposta aperta, quella di Serena Pezzini, nella mappa concentuale, vari nodi che si svolgono, a proposto anche a fatto delle proposte di metodo che possono essere utilizzate in diversi modi. Ora la questione della memoria richiama a mente tante cose, ci sono diversi dibattiti, ultimamente nel mondo della scuola, nel momento in cui viene prodotta come risoluzione un po' magica, quella dei dispositivi multimediali, le varie LIM, l'uso del computer, spessissimo queste vengono appunto quasi imposte ultimamente, c'è quasi questa tendenza, e la riflessione che volevo fare era poi fondamentalmente che, mi viene in mente Umberto Eco, che è un autore che non è proprio per i miei favoriti, però forse è stato uno dei primi a allertare contro questa eccessiva proliferazione di prodotti digitali, nel momento in cui la memoria diventa software esterno, nel momento in cui si perde la gioia di memorizzare, e la memorizzazione è quel momento in cui il contenuto, il testo diventa parte di te stesso, e spesso si delega all'esterno, al software, all'appunto anche, alla mappa concettuale o al dispositivo digitale, pronto in qualsiasi momento per farti ricordare a te insegnante o a te studente quella cosa che non eri riuscita a fessare dentro di te. Ora, e questo ha delle ricadute didattiche notevoli, io penso che la memoria, come per esempio parlava Daniel Pennac, che è stato insegnante, è stato insegnante e ha scritto un diario di scuola molto interessante, c'è una parte, verso la metà, in cui parla del fatto che lui, in una scuola simile alla mia, costringeva proprio, ora non voglio costringere nessuno, però i suoi allievi a imparare a memoria brani, che potevano essere a fortuna, o brevi o lunghi, e questo proprio per abituare i ragazzi a interiorizzare i contenuti, a farli diventare parte della propria vita nel momento in cui venivano mandati a memoria. Ho trovato questa cosa molto affascinante, anche se non ho mai fatto questa cosa all'interno della mia scuola. Non so neanche se ci riuscirei. Però, no, mi dico... Non si rinconi. Ecco. Sì, non l'ho fatto, ma vorrei farlo. Vorrei farlo prima o poi. Non è certo un vezzo quello mio di fare la citazione, comunque. No, proprio per sottolineare l'importanza dell'interiorizzazione in questo senso. Ecco, mi sembrava un esempio valido. E' nulla. E quindi, invece, penso che la storia, la letteratura per immagini, con le stampe o con le quasi tridimensionalità dell'Orlando Furioso, possa essere un ottimo mezzo da declinare, però poi nella vita di tutti i giorni e nelle attività che possono essere anche difficili. Ecco. Grazie. Grazie mille. Facciamo subito una replica. Io mi volevo ricollegare a quanto detto dal collega, perché nella carriera di insegnamento sono passata da licei classici, scientifici, un professionale, scuola abbastanza difficile e ora in un istituto per geometri. Le vostre lezioni sono state interessantissime. Per noi, ovviamente, spunto approfondimento, come diceva giustamente anche Serena, da pizzicare, ma anche, insomma, voglio dire, da apprendere e spargere poi nelle nostre lezioni. Ovviamente poi ci troviamo a fare conti con realtà che sono talvolta molto difficili, molto particolari. Con questo non voglio fare differenziazioni fra le scuole, però ovviamente l'utenza di un professionale sono ragazzi con aspettative di tipo completamente diverso, con sostrati culturali completamente diversi e familiari, con tra l'altro l'inserimento di ragazzi di SA 104, per cui a volte ti poni proprio, non so se sto esprimendo solo una sensazione mia o se è comune agli altri colleghi, ti poni proprio il problema di come trasmettere queste che sono veramente le colonne portanti della nostra letteratura e che dispiace quasi non poter far arrivare a queste, virgolette, nuove generazioni. Per cui ecco, lo spunto che mi è stato dato da questi incontri è proprio quello dell'immagine, cioè come poter trasmettere, far passare la lettura dei Promessi Sposi, per esempio, attraverso l'immagine. Una, ora io sto pensando a un'immagine che mi sta venendo in mente, il ritratto di Lucia, per cui, oppure l'incontro di Cardinal Federico con l'innominato, in quel caso, siccome sono ragazzi molto abituati, purtroppo, si sa a tenere poco in mano un libro. Io ho un figlio di 14 anni, che voglio dire legge, però non quanto facevamo noi. Quando è morto Umberto Eco, io li ho rinfacciato ben bene che il nome della Rosa l'ho letto quando avevo la sua età. Mai ragazzi si sognerebbero di fare una cosa del genere, però ha una memoria molto visiva. Perché? Perché fanno uso dei videogiochi, perché sono fissi al computer, per cui penso che queste lezioni possano almeno darci lo stimolo, l'input per dire, beh, perché non posso far passare anche Promessi Sposi ad un professionale o in scuole dove, rispetto ai licei, si presuppone che questo sia un pochino più difficile. Ecco, questo sinceramente credo che possa esserci utile in questo senso. però, posso da te? Sì, una cosa molto velocissima. No, no, ma questo, il partito che ne è con voi, per noi è bello. No, vabbè, il me era più che altro così un... c'era prima missa la collega. Eh, lo so. Non è un problema, se solo una situazione logistica si può risolvere facilissimamente. Ma si può girare tranquillamente. Eccoci. Vabbè. Ora, al di là del setting, no? Sono... Ora, sono d'accordo un po' anche con la questione del contesto difficile e non difficile. Io, per quanto riguarda la mia esperienza, che può valere pochissimo, anche per tutti quanti i colleghi, l'ho presa anche un po' egoisticamente come la possibilità mia di poter uscire un po' dalla routine di obiettivi da raggiungere, di registri da compilare. E quindi, la possibilità di fare un corso, che comunque è un corso anche di aggiornamento mio, su questioni che comunque mi interessano, che mi hanno aperto nuove prospettive, da cui posso eventualmente attingere, no? Questioni metodologiche, spunti. Posso essere pizzicato, appunto, mi piace molto il termine. Pizzicato perché rende bene, no? L'attenzione è però molto precisa e concisa su un punto preciso, poi se ne fa quello che si può. Anche perché ritengo che, insomma, e si è visto anche durante i lavori, no? Che sono stati presentati da parte vostra. Se non c'è un minimo di trasporto emotivo, penso che la comunicazione non avviene. E questo vale anche per noi, con i ragazzi. L'idea dell'insegnante che più ci ha dato, almeno personalmente, e penso valga per tutti, è proprio quello dell'insegnante che quasi si commuoveva, no? Nell'esporre le proprie lezioni. Tant'è vero che anche chi era il più disinteressato di questo mondo, di compagno di classe, diceva, lo ascolto perché comunque si vede che c'è quel trasporto emotivo. Quindi, fondamentalmente, appunto, innanzitutto questo corso l'ho preso come una cosa egoisticamente parlando, come una mia possibilità di uscire un po' dalle mura, anche a volte strette, dell'istituto scolastico. Che sia la scuola più bella del mondo e più perfetta, scusate, però per rendere l'idea, no? Che sia la scuola perfetta e che sia la scuola più scapestrata, io ho bisogno anche un po' di uscire e di arricchire la mia mente, il mio cuore, la mia anima, eccetera, eccetera. E poi è chiaro che ci sono gli spunti. È stato dichiarato sin da subito, appunto, anche la professoressa Bolsoni, l'ha dichiarato immediatamente, che non voleva essere un corso di didattica della letteratura, ma è semplicemente una nuova prospettiva, un nuovo modo di vedere anche la letteratura attraverso vie che si pensavano, sì, magari all'avanguardia, che poi in realtà, come dire, il rapporto immagine-testto è sempre stato alla base di tutto quanto. Quindi fondamentalmente questa era la mia riflessione. Era più che altro per sottolineare l'aspetto egoistico della mia frequenza a questo corso. Poi benvenga tutto il resto. Allora, buonasera. Io sono Costanza Benvenuti, insegno al liceo scientifico di Vareggio e insegno da 31 anni, con esperienze varie anche fuori dalla Toscana. Io ho trovato interessante, come tutti, il vostro corso, però io continuo a vedere una certa distanza tra quello che voi proponete e quello che noi facciamo sul campo. Noi siamo in trincea. Allora, per fare un esempio, riguardo ai promessi di sposi, per esempio, la prima cosa da far capire, ragazzi, è che Don Abbondio è un prete, Don Rodrigo è un laico. Noi siamo a questi livelli, io insegno in un liceo scientifico. Tra l'altro non credo che poi attualmente ci sia tanta differenza tra l'utenza di un professionale e quello di un liceo scientifico. Va bene, io non l'ho riscontrata. Io non l'ho riscontrata. Quindi, se è vero che questo corso non aveva come obiettivo la didattica della letteratura, ok, abbiamo preso degli spunti. Va bene. Però, secondo me, ci sono dei grossissimi problemi nell'insegnamento della letteratura italiana. Sono un... Principalmente riguardano la comunicazione. Quindi la mancanza di lessico, che significa la mancanza poi di concetti. Quindi è difficilissimo far passare la lezione, far capire cosa di una lezione è principale, cosa è secondario. Abbiamo poco tempo tutto sommato a disposizione perché siamo sommersi dalla burocrazia, è già stato detto. Di conseguenza ai ragazzi poi rimane poco. E la mia esperienza fondamentalmente è negativa sui percorsi trasversali. Secondo quella che è la mia esperienza, funziona un percorso didattico cronologico. Forse in quinta si può attentare a un percorso trasversale che leghi autori diversi o problematiche diverse fra di loro. Quindi vorrei che voi faceste questa riflessione perché altrimenti poi l'utenza che a voi arriva è di questo tipo. Quindi l'utenza che arriva poi all'università ha questi problemi di comunicazione che non sono da poco. In tutti i campi questo è un problema sia a livello scientifico sia a livello letterario. Questo volevo dire. Mi volete far parlare? Forse diciamo qualcosa, facciamo un attimo il punto su quello che è stato detto e poi su... Riguardo alla questione della distanza è difficilmente colmabile sicuramente in questo ambito. Io sono sicura che sia... Cioè che quello che facciamo noi e l'ambiente... Lo collego anche a quello che è stato detto prima. Nel senso che anche per noi questa è un'occasione di uscire dalle nostre mura anche se siamo dentro le nostre mura da un punto di vista del luogo. Però è il modo per uscire invece come vi anticipava già Paolo prima da dinamiche, modalità, codici comunicativi che sono quelli accademici sostanzialmente e universitari se non altro. Sicuramente, come dire, non posso pensare che qui dentro si riescano, almeno che noi possiamo risolverli. Magari noi e voi insieme sì, noi da soli no. Il gap che si crea tra quello che noi vi diciamo e come poi potete metterlo in pratica lì. Forse però, e questo credo che sia lo scopo di questi incontri, non solo di questo oggi specifico ma proprio di tutto l'idea dei lincei nel creare questa didattica per gli insegnanti sia proprio di colmarlo attraverso un dialogo tra noi e voi e quindi aiutarci reciprocamente. Io sono molto contenta delle cose che lei sta dicendo. Tra l'altro, mi fa impressione perché lei insegnare la scuola che io ho fatto perché io ho studiato liceo scientifica a Biareggio. E sono qui, ma no, non credo. Sono più vecchia di quel che sembra. Volevo dire però, per rendere anche propositive queste cose che probabilmente io non sono sicurissima però credo che purtroppo la didattica della lingua italiana quest'anno qui al Polo di Pisa fosse solo destinata alle scuole elementari e medie o sbaglio? Cioè forse una richiesta positiva rispetto alle cose che lei ha detto adesso sarebbe di attivare la didattica della lingua, se quella è anche la carenza anche per le scuole superiori. Questo, cioè noi ci possiamo fare, portatori e voi anche scrivendolo all'interno dei questionari di una richiesta affinché la didattica della lingua italiana venga, il modulo dedicato alla didattica della lingua italiana venga destinato anche, venga fatto anche un modulo per gli insegnanti delle scuole superiori sdoppiandolo chiaramente perché è diverso però ecco, questo penso che sia già un modo per magari venire incontro a tutta una serie di cose questa era l'unica cosa che volevo dire io non so se Ale deve aggiungere ma semplicemente appunto una considerazione diciamo ancora più generale sul progetto dei lincei che se si, non voglio fare la spiega lunga ma semplicemente dire se si guarda all'organizzazione generale anche il corso dedicato all'insegnamento della matematica fin dall'elementari dimostra che questo problema evidentemente di lessico, di comunicazione, di argomentazione è un problema che è percepito è chiaro poi un corso di didattica di letteratura si struttura in modo inevitabilmente diverso da un corso di didattica di lingua credo che però ci siano inevitabilmente delle proficue tangenze che si possono trovare una, forse un paio, tre di modi appunto pensiamo che qualcosa sia pensiamo di averli quantomeno pizzicati senza fare troppo male è chiaro che però no, no, troppo no è chiaro che però appunto come dicevo all'inizio è importante per noi anche capire come, quanto e fin dove per esempio rispetto all'organizzazione dell'anno scorso una cosa come i promessi sposi o gli aspetti di letteratura contemporanea sono, li abbiamo inseriti e quindi abbiamo fatto delle cose apposite proprio perché venivano da una richiesta specifica quindi più richieste vengono più noi nelle nostre possibilità chiaramente cerchiamo di rispondere o quantomeno cerchiamo di far fronte con i colleghi con gli amici con tutti questi che sono in questo grande progetto di trovare una soluzione quindi è un favore per noi ma se è un'esigenza vostra appunto e se questa cosa vi è piaciuta appunto fatelo diventare anche un favore a voi stessi il progetto dei lincei per le scuole serve a questo noi vi abbiamo dato degli spunti delle ispirazioni una piccola cosa come può essere città le scuole nulla, assolutamente nulla rispetto alle problematiche serie che le indica però appunto provare un confronto molto brutale tra un testo come il Furioso e una tradizione millenaria di immagini che c'è dietro forse non fa scattare una piccola curiosità ok i problemi di programmi interdisciplinari vanno presi con mille cautele con mille pinze e siamo tutti d'accordo però proviamoci una volta non è andato bene una volta non è andato bene una volta non è andato bene alla quarta santo cielo forse qualcosa verrà fuori proviamoci ok comunque segnate tutto 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 grazie mille allora io non nascondo complimenti a tutti quanti perché avete fatto molto bene e poi io insomma sono un po' sulla sua linea per me è stato un polmone diciamo no è importante però non nascondo il mio favore per l'Ada Prospero Gobetti perché mi è particolarmente piaciuta anche perché insegno come dicevo no le dicevo storia e filosofia quindi insomma questo ambiente però da quello che dicono i miei colleghi mi sembra di percepire una cosa che comunque tutti molto probabilmente abbiamo capito forse anche voi sapete bene cioè la scuola questo è un periodo storico molto grave per la scuola italiana perché sta mutando il suo DNA e se noi non riusciamo a gestire questo momento di transizione profonda rischiamo di perdere ragazzi e quindi di perdere anche il dialogo che noi abbiamo con loro anche perché considerate che la scuola media superiore per un po' di tempo ha avuto anche un po' l'opinione pubblica contraria diciamo noi abbiamo anche questa difficoltà a parlare con i genitori abbiamo ragazzi che sono sempre più bisognosi di aiuti da un punto di vista proprio sociale ed umano è stupefacente che all'interno di un polo universitario cioè l'unico polo umanistico è quello di Pisa cioè come li vogliono questi ragazzi anglofoni li vogliono studiosi di matematica e di scienze perché molto probabilmente si sono accorti che la matematica e la scienza è qualcosa che deve essere però la parte umanistica che da sempre è stata il fiore all'occhiello dell'Italia come formazione come promozione di un umanesimo proprio integrale ecco quindi è questo che secondo me bisognerebbe sfruttare quindi questa cosa che voi avete creato all'accademia con la scuola questo rapporto ecco secondo me è un'occasione da non perdere perché potrebbe intanto il mezzo visivo l'immagine è innegabile l'importanza che ormai ha per i ragazzi e c'è poco da fare ecco noi io sono la prima a dire però capisco bene che un powerpoint un video insomma qualcosa riesce ad attrarre maggiormente la loro attenzione quindi ritengo che per quanto ci riguarda diteci come possiamo fare per cercare di promuovere presso i nostri con i nostri mezzi diciamo sottolineare l'importanza di questa cosa che è stata realizzata grazie per chiacchierona c'è qualcuno che mi conosce lo sa che parlo tanto io però volevo dire questa cosa essendo profondamente convinta che noi insegnanti dobbiamo rinnovarci ovviamente anche se gli argomenti sono quelli che tutti abbiamo studiato però il modo di insegnare è diverso per cui non contenta io quest'anno non so se c'è qualcuno che qui in sala vi partecipa mi sono infilata in un corso in dire sulla didattica laboratoriale che è partito a settembre non so se ne avete sentito parlare finirà a luglio ora riguardo a certe metodologie io sono un po' scettica nel senso che non è poi così facile metterle in pratica si predica molto il concetto di flipped classroom cioè la classe capovolta per cui sembra che questi ragazzi cioè che noi dobbiamo fare lezioni sulle mani e che i banchi debbano essere ma io vabbè quindi anche lì si lavora a isole però chiaramente io insegno in una scuola dove insomma essendo vecchio insomma una vecchia scuola tutto ma voglio dire ci sono i banchi e invece lì presuppongono tutti questi banchi che poi vanno a formare l'ottavo questa flipped classroom quindi lavoro a gruppi classe capovolta altro tipo di didattica è il debate cioè porre di fronte ai ragazzi l'argomento e quindi insegnar loro a dibattere per cui poi l'insegnante si trova come diceva anche la collega con le sei ore che ha l'italiano a dover fare veramente delle acrobazie quindi a cercare d'altro lato quindi cercare di quindi conciliare un insegnamento tradizionale che poi credo sia un po' quello che abbiamo avuto tutti e che mi sembra e al quale mi sembra tutti siamo sopravvissuti e questo insegnamento ci sono le famose aule cioè 2.0 per cui anche lì le lim ecco come si potrebbe mi immagino uno qualunque di questi argomenti prendendone proprio uno a me sono piaciuti tutti e quattro devo dire come si potrebbe davvero proporre in maniera così innovativa a livello di didattica laboratoriale è una palla che getto e che ovviamente spero sia raccolta da chiunque dei colleghi che sono qui cioè quindi evitando la lezione frontale come con una flippet classroom io posso proporre ragazzi ecco questo tanto per mettere ovviamente sul fuoco più proposte grazie ora tozzetta grazie io sono un insegnante di un liceo scientifico e ho apprezzato questi corsi per me nel senso che approvo un po' quello che ha detto la collega è difficile pensare a una ricaduta immediata forse anche per una mia inadeguatezza nel senso che se vedo bene la ricaduta sull'intervento del diario partigiano che ho comprato quindi sono intenzionata a leggere e a proporre perché vedo bene lo schema come possa essere applicato in una classe io insegno in una quarta attualmente allora è un po' più difficile invece vedere l'applicazione su altri due corsi premetto che mi è mancato quello sui promessi sposi che mi hanno detto è stato molto interessante molto bello e mi dispiace avevo un consiglio di classe a cui non potevo assolutamente mancare per gli altri due mi sono venuti degli spunti per esempio per quanto riguarda l'Orlando Furioso e avevo accennato l'altra volta al docente mi è venuto in mente anche come o quanto sia stato anche letto politicamente l'Orlando Furioso attraverso quelle incisioni cioè considerando il periodo veneziano considerando quello che era il contesto storico considerando che l'Italia era diventata luogo appunto di barbarie insomma di lotte straniere rimandare questa forma di rinascimento collegandole alle famiglie importanti dell'epoca ecco può essere una rilettura di tipo politico come si può applicare una cosa del genere in un contesto scolastico per quanto riguarda non so se sono stata chiara cioè no no cioè che tipo di immagini a me veniva in mente quello che di cui avevo parlato la volta scorsa quei passi fantastico reali collegati al canto 33 e quindi le guerre d'Italia di quel tempo che erano rappresentate attraverso se non ho capito male immagini anche di signori di quel tempo nel senso la stessa operazione per intenderci non so che faceva Raffaello con la scuola d'Atene o Michelangelo con la cappella Sistina in cui c'erano dei personaggi del tempo quindi una fruizione di immagini che non è innocente ma è finalizzata a un certo tipo di fare politica per quanto riguarda Dante invece mi spiace che manchi la professoressa Bolzoni perché io invece il giorno dopo nei giorni successivi ho voluto una ricaduta molto rapida sulla mia classe sulla quarta perché in terza si studia l'inferno in quarta noi facciamo Purgatorio e Paradiso ovviamente soltanto un'antologia dei canti e quindi parlando della memoria quindi la memoria dell'oralità la memoria della scrittura ho chiesto ai ragazzi quali erano i versi che erano rimasti più impressi eccetera perché la divina commedia può essere può diventare memoria collettiva come aveva detto memoria di immagini tutti ricordavano i versi dell'inferno o di passi dell'inferno per cui la deduzione lineare dei ragazzi è stata Dante ha voluto creare un percorso più semplice proprio perché arrivasse anche al popolo fosse affine al discorso dei predicatori del Medioevo man mano che si allontanava il Purgatorio diventa più complesso il Paradiso eccetera quindi lui è un autore selettivo cioè è interessato soltanto a far passare un messaggio di didattica diciamo di insegnamento soltanto per un percorso della sua opera può darsi ripeto che abbia sbagliato ma queste sono le suggestioni che ho raccolto e ho riprodotto grazie il 33esimo canto beh no diciamo che lì non è immediatamente il legame non è così immediato nel senso ci sono delle serie di rappresentazioni belliche che sono evocative e che non sono riconoscibili il legame può avvenire anche quelle non solo chiaramente quelle che vengono fuori dalla Rocca di Tristano ma quelle dipinti in alcuni casi sono veramente soltanto degli accenni di scontri di gruppi quindi non si capisce veramente cosa possono essere si può intuire che rispetto al discorso del testo che sono quelli però se nel corso del tutto il Cinquecento queste questi piccoli frammenti sono riusciti comunque a far scattare nei lettori questo legame che esisteva con una realtà ben presente quelle testimonianze degli affreschi fittizi delle guerre d'Italia possono stare accanto non alle rappresentazioni dei cicli di affreschi di signori eccetera eccetera in quell'uso politico ma come rappresentazioni evidenti di quella situazione che lei indicava quindi magari con un passo ulteriore che deve essere mediato però il legame comunque c'è e quando si mostra insieme una cosa e l'altra la guerra rappresentata e la guerra che succede subito gli accanto illustrata beh il confronto inevitabilmente al di là di una colonna quando c'è solo una colonna a separare una situazione il confronto è immediato addirittura probabilmente nella De Franceschi certe cose l'ultima edizione certi episodi della guerra possono essere probabilmente anche riconoscibili però senza voler entrare così nel dettaglio ci sono delle testimonianze di dramma quel dramma è vissuto rispetto vissuto dagli italiani che sono da chi legge il furioso durante il 500 italiani quali all'epoca difficile da chi legge il furioso nel 500 sono eventi conosciuti sono eventi noti sono eventi che lasciano la loro scia per tutto il tempo semplicemente far riflettere come rispetto a una vulgata critica tradizionale la sublime armonia la pace la tranquillità di questo poeta che cerca così che rappresenta un ideale di equilibrio fargli vedere come in realtà all'interno del testo ci sono delle tracce che sono state colte immediatamente che fanno reazione e che condizionano in questo senso il rapporto del testo con la storia anche questo è un piccolo dettaglio minimo ma fargli vedere come letteratura e storia sono lì si toccano si guardano e una influisce l'altra non solo la influisce storia sul testo ma anche quando si ritraduce in un altro codice ovvero la rappresentazione figurativa spero almeno appunto un piccolo sì ok perfetto sì non c'è cosa più difficile da far capire ragazzi qual è il parallelo tra la letteratura e la storia prima di tutto perché qui è un periodo storico particolarmente complicato in secondo luogo perché hanno come delle barriere per cui studiano compattimenti stati e far collegare far collegare in modo sensato un avvenimento letterario a uno storico è estremamente difficile voi non avete la più pallida idea di quanto sia sempre più complicato per questo sono i ragazzi di oggi tanto più interessati alla letteratura coeva e a quanto c'è di più vicino a noi quanto più la proiezione storica li allontana dall'immediato tanto più questo programma è difficile questo perché io tratto della realtà effettuale non della scuola come dovrebbe essere della scuola come quindi è così sì bene a me sembra evidentemente questo è uno dei nodi mi sembra è evidente questo è uno dei nodi chiarissimi noi ci siamo interrogati molto davvero su questo cioè su quale dovesse essere il registro su quale dovesse essere il livello di approfondimento eccetera però va sempre tenuto in considerazione che il nostro pubblico eravate voi non gli studenti e sarebbe stato forse anche un atto di presunzione il nostro dire a voi cosa andare a dire in classe perché naturalmente noi dobbiamo parlare a voi e anche tenere in considerazione le vostre competenze e le vostre esperienze che sono estremamente diverse dalle nostre ma che possono come dire agganciarsi alle nostre è una catena cioè saltare questa mediazione sarebbe stato come dire non cogliere il punto di questa iniziativa nel senso è una catena di trasmissione e nessuno assolutamente vuole sottovalutare i problemi enormi di comunicazione di impostazione di programmazione che ci sono a scuola però è stato proprio anche probabilmente una scelta quella di dire noi dobbiamo rivolgerci a voi innanzitutto e come dire fare leva su quello che voi potete poi elaborare trasmettere filtrare altrimenti si appiattiva tutto sul passaggio finale invece questo forse era proprio quello che era il contrario dello spirito dell'iniziativa poi ripeto con questo non voglio dire che non si può modificare aggiustare il tiro e venire incontro e venirci incontro dialogare ancora su come questa catena di trasmissione può essere potenziata però allo stesso tempo secondo noi è importante lo sforzo di non appiattirla cioè io non spiego a voi la differenza tra Don Rodrigo e Don Abbondio perché voi la conoscete no? e quindi non lo dico per giustificare adesso ho fatto l'esempio o quella tra letteratura e storia ma come dire cerco di dare degli elementi per perché questa cosa possa essere rilanciata nella vostra pratica tutto qua ripeto ma non è assolutamente cioè non voglio che sia una contrapposizione tra di noi ecco questo sì 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 e ripeto è dato di fatto che esiste ripeto è uno dei nodi e continuo a dire è una delle cose che sicuramente come dire teniamo di questa esperienza e anche sulla quale continuiamo a riflettere questo non ci sono dubbi ok sì 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 certo no no prego allora dunque anche io insegno in un liceo scientifico anche io insegno in una quarta una seconda una quarta una quinta quindi promesse di sposi Orlando Furioso tutto allora l'Orlando Furioso pacchetto comple non ho il problema della signora perché i ragazzi una volta che non sentono la distanza stranamente non sentono la distanza se si se si se si se si prova io provo a farle leggere i promessi sposi alla luce di un saggio di Calvino dell'81 perché leggere i classici e quindi diventa una cosa dove loro si riconoscono perché l'Orlando Furioso è universale vuole essere universale appunto racconta la storia di Orlando per raccontare la storia di 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 Ariosto stesso no quindi e ragazzi questo lo percepiscono all'incirca va bene ha detto all'ingrosso proprio ha detto e questi ragazzi riescono a percepirlo quindi ci sono strategie per per veicolare lo studio l'interesse l'amore anche per questo per questo testo un amore che può essere fatto attraverso l'addizione oppure le messe in spazio perché una volta che i ragazzi fanno una rappresentazione provano a rimettere in scena i promessi sposi se ne innamorano e magari lo leggono anche incredibile ma vero quindi sono rimasta però poco interessata dalla prospettiva che ne avete dato voi cioè per me la ricaduta didattica era poco poco interessante e questo il i promessi sposi molto interessante molto bellino perché c'è la questione della visione dell'immagine eccetera però anche qui ha bisogno di una di una di una programmazione lunga fatta su quelle non lo so se mi vale la pena di utilizzare per affrontare i promessi sposi quel 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 veicolo perché come dicevo l'altra volta mi pare che le rappresentazioni che ci vengono proposte sembrano piuttosto slegate poi da quello che vuol dire Manzoni stesso sembra non accorgersi Manzoni che lui dentro il testo fa i ritratti che si richiamano e ci ripropone dei ritratti che non hanno niente a che fare e allora poi c'è il problema che si vanno a prendere quelli che rimangono nei magazzini quindi il lavoro non lo so se è così interessante il terzo il terzo intervento quello della Bolsoni è molto brava la signora è bravissima però non ci ha raccontato assolutamente niente di nuovo e la cosa che diceva la signora è interessante ma non ho capito quanto è letterario cioè devo prendere quel testo lì rispetto a quel io non lo conosco il testo quindi come ha fatto Carlo lo comprerò e vedrò però se devo fare un'operazione letteraria è proprio quello il testo che devo andare a cercare per quel momento storico e per quello che mi vuole trasmettere vuoi dire ah sì ecco dunque le cose che state dicendo sono tantissime io non so da quale partire prima cosa per parlarci tra di noi dobbiamo un po' guardarci in faccia ecco perché mi sono girata però sono l'unica poi noto un'altra cosa è che ognuno ha detto una cosa scusa se mi sono un po' risentito quando hai citato Pennac per poi non applicarlo io ti chiedo scusa però è così sono dibattiti che poi non sono dibattiti ognuno dice la sua e cade nel vuoto totale allora cerco di riprendere un pochino quello che dicevi che Umberto Eco allertava a parte che l'alverbo se mi permetti non mi piace Umberto Eco ci ha allertato sul pericolo di mass media ma a parte quello come non mi piace che ci hai chiamato pubblico a noi siamo tu hai detto voi siete il nostro pubblico io mi offendo un po' se uno mi dà del pubblico scusa io sono io sono no il pubblico oggi il pubblico perfino la politica parla non più di elettori ma di pubblico per me è una parola che si è un po' sporcata riflettiamoci riflettiamoci è diciamo il termine specifico della tradizione retorica c'è l'oratore eccetera ma è chi ascolta quindi è una funzione binaria ok ma non dovevamo non essere troppo accademici siccome qua stiamo dicendo io lo dico l'ha detto qua che le lezioni erano un pochino accademiche e infatti torna col fatto che eravamo il pubblico vabbè no ma ecco ma guarda che riflessioni sulla lingua riflettete cos'è il popolo cos'è la casa delle libertà cos'è il pubblico anche politicamente comunque torniamo a Umberto Eco che tu hai citato per dire che mettiamo in guardia da quei certi pericoli ora io avrei da dire tantissimo su questa cosa però vedi che è caduto nel nulla adesso cosa faccio non voglio tenere il microfono mezz'ora ti dico solo che io avrei da dire sul fatto che la memoria può essere un hard disk e quindi io non mi devo più ricordare tante cose io le posso ma ho più tempo per manipolarle e a me piace molto questo utilizzo dei mezzi tecnici a scuola lì tu hai detto che ce l'hanno un po' imposta magari perché più non dobbiamo ricordarci nozioni anche immagine no? quella statua di Canova eccola tac è quella lì te la faccio vedere e quindi possiamo avere un impatto emotivo io ho più tempo per manipolare e per confrontarci tra di noi sono partita da questo noi dovremmo confrontarci di più tra di noi e per confrontarci tra di noi a parte la posizione anche quelle sedili non si riescono a girare sono tutte agganciate una all'altra mi riallaccio l'ultima cosa che dico a quello che diceva lei anche quello che ha detto lei è caduto sì la classe è rovesciata non è mica male come idea pensa all'attimo fuggente vedere le cose da diversi punti di vista e produrre più che star lì pubblico qualsiasi cosa ormai qualsiasi cosa uno dice se è un politico se è un economista vai a una conferenza tutti applaudono e basta in quel senso pubblico mi dà fastidio invece questo che dici tu è bello perché si può ribaltare sono i ragazzi che lavorano che producono su un testo non prendo le cose io glielo ho detto ieri io le cose che vi dico ve le può dire anche online vai su c'è Ugo Fosco ti dice noi siamo qui insieme perché vi possiate confrontare tra di voi anche per quell'emozione che dà non so l'ultimo verso dei sepolcri tu onore di pianti Ettore Avrai e io fino adesso non piango più ma per molti anni quando dicevo tu onore di pianti Ettore Avrai piangevo e quindi lo sentivano subito altrimenti che onore di pianti è è solo una parola scritta invece è vero io gli ho dato onore di pianti a Ettore che è morto per la patria per anni adesso mi sono molto tolta da queste emotività altrimenti è come l'infermiere che continua a piangere ogni morto non lavora più però per concludere quello che diceva lei della classe rovesciata con questa parola inglese flip flip e il debate invece del dibattito suggerisco di farlo anche le prossime conferenze tra di noi cioè che noi elaboriamo un po' loro ci propongono dei testi delle immagini quello che vogliono e noi siamo un po' più attivi come un laboratorio piuttosto che stare a fare il pubblico il mio è un commento estemporaneo e personale a me il corso è piaciuto molto è piaciuto molto l'approccio perché non è è il punto debole ma è anche il punto di forza per noi cioè non cantarsela e suonarsela sempre a scuola non abbiamo molti spazi diciamo per parlare dei problemi mancano le ore a disposizione eccetera eccetera uscire dalla scuola e rioliare un po' la capacità d'ascolto di ragionamento ritornare un po' all'università ecco far quella fatica a me è servito tanto poi con persone abbastanza giovani quindi come dire in grado anche di essere molto fresche nonostante ci abbiano proposto una mole di stimoli veramente enorme ecco poi anche da da riportare nella didattica ma anche se non la riporto nella didattica io sono molto felice per me quindi vi ringrazio estremamente per la qualità grazie a tutti in grado anche no allora vuoi dire qualcosa tu sui promessi sposi è la domanda che c'è l'appunto che ha fatto cosa io voglio studiare particolare sì forse avevamo già parlato della questione dell'immagine sì era venuta fuori anche in coda alla lezione e no sicuramente rispetto come dicevo prima rispetto alla utilizzabilità ovviamente poi ognuno insomma incontra le sensibilità i percorsi e quindi su questo come dire non c'era da parte nostra un giudizio a priori sull'utilizzabilità naturalmente c'era lo sforzo di renderla utile questo sì però chiaramente poi i percorsi didattici possono essere molto diversi quindi su questo non credo ecco diciamo su questo avevo risposto anche l'ultima volta come dire non credo che l'utilizzabilità sia minata da questa come dire problema dei ritratti o comunque diciamo uno dei presupposti dell'intervento era proprio quello anzi della coerenza un po' così della proposta di Manzoni nel concepire queste immagini però ripeto questo può essere o no un elemento utile per la didattica non come dicevo prima non lo è a priori quindi insomma può o no essere impiegato in dei percorsi sul resto sì e forse sul diario partigiano rispetto a diario partigiano dunque premesso che probabilmente io proponevo anche un approccio a un testo e alla possibilità di lavorarci in un modo che poi è anche applicabile su altri testi che scegliete quindi questo indubbiamente nel senso poi in particolare io lo trovavo molto interessante e poco conosciuto per cui mi sembrava che fosse interessante anche proporvi qualcosa che non conoscevate quindi provate vedete se anche per voi può essere perché io l'ho trovato estremamente interessante e affascinante e ho valutato anche il fatto che era un testo come forse non ho ripetuto a sufficienza ma letterario passato spesso semplicemente come un diario alla stregua del diario di Artom di altri diari di partigiani e partigiane che hanno una qualità letteraria sicuramente inferiore hanno altri valori sicuramente ma non sono pensati come un testo di letteratura mentre il diario partigiano è pensato così e poteva avere però in più il fatto che comunque è la storia vera di una persona vera e questo magari i ragazzi e le ragazze li può appassionare con più facilità che non un romanzo che è tutto di finzione non lo so l'idea di che è una donna di cui possono vedere le foto il video le immagini del figlio mi sembrava che potesse essere un approccio per misurare quella memoria di una nazione anche con la memoria di un essere vivente lavorando su un testo però che può anche presentare degli aspetti interessanti proprio dal punto di vista letterario quindi è questo poi sono sicura che il modo in cui io l'ho presentato e l'idea di offrire degli spunti delle finestre si possa applicare a un sacco di altri testi ma questo penso che sia una buona cosa insomma la modularità ecco questo soltanto e rispetto all'accademico al pubblico ora non voglio quello che penso è che magari è un approccio diverso che abbiamo però dei termini non è per fare un discorso accademico assolutamente ma magari dobbiamo anche riappropriarci nel laddove ci vengono rubati per essere utilizzati in maniera propagandistica quando Alessandro rispondeva rispetto alla tradizione della retorica non era accademica la sua risposta io credo che volesse dire sì ma quella parola ha una storia e noi possiamo scegliere di ridarle anche consapevolmente e secondo me questo è importante non solo per la parola pubblico cioè è proprio un valore che forse vale la pena ribadire così come di alcuni testi di alcune immagini di alcune canzoni non lo so cioè non esiste solo il dire ok prendetevela io ne uso un'altra no io la uso e ribadisco che la uso in questo senso qua e quindi non è una butade è proprio per ribadire un principio e anche sull'accademico invece da un altro punto di vista sì ma noi questo siamo cioè l'idea anche di questo progetto dell'inceia è portare l'alta ricerca fuori il più possibile è chiaro che poi è fatto con grandissime mediazioni anche da parte nostra però l'idea è noi facciamo l'alta ricerca siamo persone che fanno sostanzialmente ricerca perché tra l'altro qui dentro di didattica i giovani ricercatori i giovani ricercatrici non siamo così giovani ma ormai abbiamo questa etichetta che soprattutto fa stare tutti tranquilli noi tanto siamo giovani quindi anche siamo precari in difficoltà però siamo giovani ricercatori e niente insomma sostanzialmente facciamo ricerca tutto il giorno questo facciamo e cerchiamo di portarla fuori dal nostro ambiente è chiaro che cerchiamo di farlo trovando delle formule degli schemi comunicativi che comunichino effettivamente però questo è cioè stiamo cercando di portarvi questo ecco comunque sì comunque nel senso anche per per non per non arroccarci capisco l'obiezione diciamo che allora io ho pronunciato la parola pubblico pensando davvero allo spazio pubblico ma ma sicuramente andava integrata anche proprio con pubblico e interlocutori sicuramente quindi da questo punto di vista siamo d'accordo penso non credo l'intenzione con cui ho pronunciato la parola era quella proprio della comunità non tanto della comunicazione e noi l'abbiamo accolta infatti siamo corsi da quest'altra parte sì grazie sì prometto non voglio dire più niente no cioè l'impressione che praticamente sembrava che io almeno non me l'aspettavo meno male che non è stato così sembrava che ci aspettassero una sorta di corso di didattica della letteratura italiana grazie a Dio non è stato così ve ne ringrazio tantissimo perché di didattica se ne sente parlare tanto corsi di didattica di questo corsi quindi basta una piccola riflessione in più riguardo alla questione che diceva forse potrebbe essere anche fatto tipo flip classroom i prossimi incontri non lo so perché appunto giustamente sottolineavano il fatto che non possono trasmettere certi messaggi in una modalità che non è la loro come noi non possiamo trasmettere certi messaggi ai nostri ragazzi in modalità che non sono le nostre eh vabbè quella è una questione di crisi d'identità dell'insegnante quello ce la dobbiamo vedere tra di noi ora al di là della battuta no è chiaro che effettivamente come diceva anche Paolo noi siamo l'anello di congiunzione fondamentalmente però se ci pensi tranquillamente mi permetto di dare del tu in quanto collega lo facciamo quotidianamente nel momento in cui noi abbiamo da affrontare un argomento noi ci documentiamo su quell'argomento studiamo approfondiamo poi però quello che passiamo ai ragazzi sono magari la sintesi alcuni contenuti e penso che sia la stessa cosa che hanno fatto loro io non ritengo che l'Orlando Furioso o il il diario partigiano o anche la questione dei promessi sposi ma anche l'arte della memoria e Dante della professoressa Bolsoni ha scritto insomma anche dei libri saggi e robe varie quindi non sono esauribili in quell'oretta e mezzo di anche conferenza perché mi piace l'idea della conferenza a me personalmente poi appunto è sempre una questione mia personale quindi è chiaro che a livello metodologico io non mi aspettavo niente di didattico appunto ripeto di questo ne sono profondamente integrato e per quanto riguarda invece gli spunti forse perché non lo so sono anche io etichettato nella mia scuola tra i più giovani e quindi nonostante anche io abbia la mia età però forse sono più vicino al modo di apprendere dei ragazzi di adesso che non magari mi sono un po' dimenticato quando andavo a scuola io forse e rimasi colpito dalla modalità di presentazione esatto la prima cosa che andai a chiedere è qual era il programma che aveva usato la la dottoressa pezzini era molto interessante perché presentava praticamente per nuclei tematici poi all'interno no ecco io credo che la cosa molto 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 apprezzabile di tutto quanto il corso è che effettivamente potrebbe essere veramente utile a livello didattico è l'idea dei link cioè dei collegamenti perché è vero i ragazzi sono quello che sono noi giustamente abbiamo a che fare con una realtà che a volte non comprendiamo nemmeno però io non la vedo così negativamente arrivata a un certo punto cioè anche anche Catone diceva che ai tempi antichi stavano meglio e quelli che venivano dopo Catone dicevano che ai tempi di Catone si stava meglio ecco però voglio dire non la vedo così negativamente forse anche a livello proprio di immagini e di presentazione delle immagini e di collegamenti tra varie tematiche di i grandi della letteratura e ci metterei anche diario partigiano arrivato a un certo punto come classico appunto come esempio anche perché fa parte anche della nostra storia e quindi di un'identità anche nazionale se vogliamo e il appunto la presentazione anche attraverso collegamenti è molto utile per quello dicevo il pizzicare e poi io ribadisco appunto la questione che è anche un'occasione per noi di approfondimento se no veramente ci limitiamo troppo a fare sempre tra virgolette le stesse cose impoverendoci anche noi se noi ci arricchiamo è chiaro che poi questo arricchimento siamo soddisfatti questo arricchimento passa anche ai ragazzi lo trasmettiamo al di là poi delle questioni metodologiche magari che ne so la flipped classroom funziona con un certo tipo di ragazzi non dico di scuola di ragazzi e con altri sì ma infatti è per quello che dicevo ora sulla crisi di identità sulla crisi di identità dell'insegnante io lascerei ad altri questo dibattito e più che altro fare il mio lavoro nel senso sono lì mi piace fare l'insegnante quindi voglio continuare a farlo quindi appunto a livello metodologico ecco forse anche visivamente proprio l'idea dei collegamenti quello poi sarà che appunto ho studiato anche molto sulla scia della Barocchi e lei è stata veramente all'avanguardia da questo punto di vista quindi era solo ho promesso ma non lo faccio sì no è più forte di me voglio dire mi ricollego al collega in questo senso visto che abbiamo a che fare con questo tipo di ragazzi io ho due figli che veramente a cui ricorro per risolvermi i problemi di computer perché perché sono dei maghi davvero e quindi fanno e quello si è fatto la tesina da solo in terza media presi powerpoint no ok i nostri ragazzi sono in grado di farlo per cui perché non renderli partecipi protagonisti della costruzione magari Serena scusami se ti do del tu parlava di per testo quindi no quindi però non essere noi a proporlo bensì essere loro attraverso le loro competenze digitali a costruire tutto questo andare a cercare mi hai fatto accendere la lampadina quando hai parlato di link cioè ragazzi sono in grado di farlo quando c'è stata la giornata della memoria io è una giornata a cui tengo particolarmente perché insomma è una tragedia a cui mi sento particolarmente sensibile in passato ero io a proporre un percorso fai vedere il film da un po' di anni lo faccio fare a loro e quindi questi si sbizzerriscono perché c'è la possibilità di mettere su youtube il video con musica foto video e quindi ti rendi conto che poi in questo caso stimoli la loro creatività tanto è inutile rimpiangere i tempi in cui noi stavamo tutti buoni a ascoltare la lezione frontale non lo sono più e forse come diceva anche il collega non tutti i mali vengono per nuocere cioè poi alla fine insomma magari cercare di fare in modo che ci sia ancora il rapporto con il libro ci sia ancora un rapporto con la tradizione però perché non mettere a frutto anche quello che loro sanno fare e tutto questo per esempio anche quello che voi avete proposto perché no si presta anche a questo grazie sì c'è qualcun altro io se non c'è qualcun altro proprio sulla questione della didattica e lui ci ringraziava per non averlo fatto ma non avremmo potuto perché non proprio non lo sappiamo capito non è la nostra competenza e anzi io penso che sulla didattica avremmo mille cose da imparare da voi perché non non cioè non abbiamo il polso non siamo in trincea e quindi è proprio il contrario appunto quello che possiamo fare è il percorso opposto l'unica cosa che possiamo fare cioè provare a condividere con voi delle idee che possono poi diventare didattica ma che non lo sono come dicevo prima che non lo sono a priori e quindi insomma su questo non è cioè è stata ovviamente anche una scelta l'impostazione che abbiamo dato ma era anche nelle premesse il fatto che non fosse un corso di didattica della letteratura poi non so ripensavo al discorso sull'accademia come dire cioè l'immagine che mi veniva in mente è che c'è la stessa distanza che c'è tra come dire tra i promessi sposi e gli studenti da un lato c'è tra il modo in cui abbiamo cercato di parlare dei promessi sposi e quello che io farei in un convegno cioè non nel senso c'è la stessa distanza da colmare poi adesso non voglio denigrare l'accademia c'è anche la buona accademia nel senso quindi insomma anzi a volte la specializzazione la iper specializzazione è anche un modo per scoprire cose nuove o avere nuove idee quindi no è anche quello però appunto come dire già lo lo sforzo la scelta che noi facciamo comunque è molto lontana dalla modalità di comunicazione che avremmo in un contesto accademico davvero se c'è qualche tu vuoi dire qualcosa no ah ok volevo dire una cosa soltanto ma proprio per non far cadere nel nulla le cose che ha detto Sebastiano nel senso che secondo me si è creato una triangolazione tra quello che ha detto Sebastiano quello che ha detto lei e quello che poi hai detto tu forse non mi ricordo più la Litz forse la Litz che però non era diretta da ECO no ma forse era la Litz ma penso che anche Sebastiano lo sia in realtà cioè no però rispetto a quello che dicevi anche sulle immagini no sulla memoria eccetera non lo so quanto poi questi strumenti qua siano memoria esterna ossia mi riconosco molto di più in quello che che dice lei del fatto che si vabbè è vero sono memoria esterna ma poi attivano dei contenuti e questo rientra tantissimo un'idea anche che diceva Lina Bolsoni all'inizio rispetto alle immagini che abbiamo ribadito e che abbiamo sperimentato noi stessi parlando qui come le immagini diventino degli scrigni di memoria no l'immagine diventa proprio quell'elemento che ti apre tutto un mondo di ricordi di pensieri di collegamenti no per quello io le ho utilizzate a segnare i nodi di quel ipotetico e per test di quella mappa concettuale eccetera riguardo all'imposizione degli strumenti è verissima anche perché immagino io lo vedo ma io lo vedo per esperienza diretta perché ha una figlia alle elementari no e questa imposizione della LIM in una scuola fatiscente senza carta igienica fa ridere che si rompe e nessuno la può aggiustare cioè è inquietante è profondamente inquietante esatto il collegamento a internet non c'è è traballante i computer sono terrificanti no però si fa l'informatica ci si mettono queste cose verissimo da un lato dall'altro vero e bisogna ammetterlo non vale nel nostro caso perché noi lavoriamo con gli strumenti informatici insomma anche di alta progettazione ma c'è un gap tra gli insegnanti e gli studenti rivelato che è pazzesco cioè noi siamo andati a fare queste lezioni a figline e le insegnanti ci hanno messo due ore a entrare nel back end di CTL scuola e i ragazzi andando in un secondo fanno tutto cioè e anche questa cosa qua va un attimo calibrata probabilmente imparare anche un po' da loro non lo so appropriarsi un po' anche in questo caso è come per la parola pubblico riappropriamocene noi cioè del modo in cui possiamo utilizzarli e del modo in cui possiamo lavorarci dentro non lo so questo indubbiamente io sono in una scuola dove c'è una una lim c'è una lim per tutti gli allievi della mia scuola e tre anni fa facevo serale e ora non la posso usare perché in pratica bisogna prenotarsi tipo due settimane prima non ho questa longemiranza nella mia preparazione delle lezioni tre anni fa facevo serale e facevo avevo spostato completamente la mia classe del serale nell'aula lim perché ritengo che sia invece uno strumento fondamentale il problema è saper distinguere l'innovazione to cure con l'efficacia dei mezzi io era questo che volevo intendere poi nel momento noi stiamo attraversando un momento in cui sembra che tutto ciò che diventa didattica di origine anglo-sassone non è un caso se tutti questi termini da flipped eccetera sembra un po' una panacea a quella che spesso è invece io invece tengo molto all'investimento emotivo nella scuola perché a volte più di 10 lim mi dà una lezione a cui io partecipo e magari mi commuovo insieme ai miei studenti e so che quella commozione rimane impressa veramente nella memoria e diventa parte costituente non è la stessa cosa di un infermiere o di un dottore il dottore deve stare lontano magari invece trasmettere emozioni penso che sia e continua ad essere la metodologia didattica più importante più importante e purtroppo invece c'è una sopravvalutazione secondo me del mezzo didattico e digitale tanto che stanno scendo studi che confutano totalmente l'efficacia didattica di certi perché dal digitale passa di tutto passano dalle risposte chiuse le crocette passa un mondo che va preso veramente con le pinze di cui secondo me bisogna guardarsi molto di cui bisogna rappropriarsi da una parte con cervello con granosalis sicuramente dall'altra bisogna stare anche molto attenti se non ci sono altri interventi forse possiamo passare al caffè e grazie ancora a tutti grazie a tutte grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti